Ciao a tutti, oggi a richiesta facciamo un'analisi di Amazon. Qui nella prima pagina del mio indicatore ho inserito i dati del bilancio e andando a dare uno sguardo nell'andamento generale, qui nella seconda pagina del mio indicatore, possiamo notare che in questi ultimi 4 anni Amazon ha avuto dei fatturati in crescita costante nel 30% l'anno. Profitti loro di utili netti asset in crescita, però nonostante tutto ciò io personalmente non mi fido del prezzo attuale. Secondo me è altissimo e non ha alcun senso che quoti così tanto. Ovviamente il nome, quindi il brand della società, influenza molto la psicologia degli investitori, però se la guardo dal mio punto di vista mi sembra comunque troppo alto. Un sacco di aziende sono cresciute a livelli stellari per moda e poi quando la moda è passata il prezzo è tornato verso valori più normali. Ora, non metto in dubbio la solidità di Amazon, è comunque una società che fattura per esempio l'anno scorso oltre 230 miliardi di dollari, però se mi conosci sai che i fatturati vogliono dire tutto e niente. E se andiamo a vedere qui nella terza pagina la comparazione tra i fatturati e i veri utili che produce questa società, vediamo che il rapporto quest'ultimo anno è stato intorno al 4%, mentre gli anni passati è stato molto più basso. Quindi teniamo conto anche delle proporzioni. E come questo anche tutti gli altri punti di vista di tutti gli altri valori di Amazon non mi sembrano alcunché. Ripeto, ok la sicurezza del nome, ma nulla è eterno. E se c'è una cosa che ci ha insegnato la storia è che anche le società più capitalizzate possono corollare nel giro di pochi anni. Anche perché poi quando il prezzo inizia a corollare per un motivo o per l'altro, la cosa si autoalimenta facendo corollare il prezzo ancora più velocemente. Quindi ripeto, io personalmente ci starai molto lontano. Ora se vuoi il mio indicatore ti lascio il link in descrizione, ti ricordo che questa analisi è un'opinione mia personale, ti saluto e ti auguro tanti buoni investimenti. Ciao! Ciao!